Più di 50 anni vissuti per aiutare il prossimo. Intere generazioni di giovani e giovanissimi trapanesi, al solo sentire il suo nome, si aprono con un sorriso pieno di ricordi felici. Lei è suor Cecilia, quasi un'istituzione a Trapani, sempre prodiga, anche in veneranda età, a girare e rigirare con la sua vettura per prendere e lasciare i bambini ai propri genitori. Negli ultimi tempi alle famiglie più bisognose di Trapani ed Erice, anche con la distribuzione di pacchi al banco alimentare. Ma è interminabile la lista delle sue azioni caritatevoli sul territorio, visita ai detenuti per colloqui, catechismo, assistenza agli anziani, semiconvitto, sorveglianza e accompagnamento di minori in difficoltà e tanto altro. Ma nel giugno 2014 la Caritas chiude per mancanza di vocazione. Per due anni venne ospitata nell'Istituto Maria Santissima Immacolata delle Suore Oblade al Divino Amore della Via Michele Amari a Trapani. Nel 2016 venne infine richiamata nella sua congregazione di appartenenza a Napoli, una scelta sofferta ma inevitabile. Ma ancora oggi tanti trapanesi ne ricordano le attività generose e lo stile di Suor Cecilia nei confronti di alcuni poveri, assistiti e accompagnati dalla comunità delle Suore Vincenziane che per tanti anni hanno servito i più bisognosi della città. E quando la comunità vincenziana, per mancanza di vocazioni, fu costretta a chiudere le attività a Trapani, Suor Cecilia non volle seguire le consorelle, chiedendo di restare a Trapani per un periodo di discernimento. Era legatissima a Trapani e ai trapanesi. Un affetto reciproco, durato anche dopo il rientro dell'energica Suora a Napoli nel suo ordine di appartenenza. Trapani non l'ha dimenticata e mai la dimenticherà.